Il caso Bramezza, l'attuale direttore generale dell'Ulss 7 Pedemontana, ha tenuto banco a focus il programma di approfondimento del nostro direttore Luigi Bacialli, dove dopo le dure parole di Giacomo Possamai, segretario regionale del Partito Democratico, anche l'economista Francesco Pontelli ha ribadito con fermezza la necessità di una presa di coscienza e di posizione da parte delle istituzioni e del diretto interessato. Posso solo dire che sarebbe opportuno, quantomeno che ci fosse un passo indietro da parte del dirigente, un passo indietro per cercare di facilitare la risoluzione dei propri problemi personali, le proprie competenze, le proprie... andrebbero al vice direttore. Invece continuare, come io ho visto solo una volta, a non rispondere alle domande dei giornalisti, lo trovo francamente un comportamento molto sgradevole. Grazie. Grazie